Musica Bello a tutti ragazzi, torniamo con un nuovo appuntamento di The Last of Us Abbiamo lasciato il nostro Joel alle prese col fututo ascensore E adesso vedremo cosa ci aspetta Buona visione! E' a terra! Finiscilo! L'ho beccato! Bel colpo Ti ha morso? Non oggi Tu? Non oggi Ottimo Dividiamoci e assicuriamoci di aver preso tutti questi... E' un po' di più Sì. 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 Che diavolo era? Attenzione. Grazie. 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 Che cazzo è stato? Ehi, occhio, ok? Un pezzo di... Prendiamolo! Sei già morto, bastardo! Ehi, occhio. Ehi, occhio. Ehi, occhio. Ehi, occhio. Ehi, occhio. Ehi, occhio. Merda. L'ho spedito dritto all'inferno, eh? Direi proprio di sì. Ora vomito. Perchè non sei stata indietro come ti ho detto? Per fortuna non ti ho ascoltato, eh? Per fortuna una ragazzina non mi ha ficcato una cazzo di pallottola in testa. Sai una cosa? No. Perché non è? Ehi, Ellie, non deve essere stato facile, ma non c'era alternativa. Grazie per avermi salvato il culo. Non ti viene in mente niente di simile, Joel? Dobbiamo sprecarci. Fammi strada. Fammi strada. Fammi strada. Fammi strada. Fammi strada. Dobbiamo tornare fuori, trovare quel ponte. Dimmi solo dove andare. Odio queste strozzate. Fammi strada. Eccom. Eccom companion. Eccom companion. Grazie. Wow, guarda un po'. È uno sfondo. La gente riusava per scattare fotoricordo. Sì, lo so che cos'è. Sì, lo so che hai ragione. Perché di più? Anzi, allontanati pure. La porta sembra una via d'uscita. Vedi un modo per arrivare lassù? No. Forse questo ci può aiutare. Ok. Pesa più del previsto. Ehi, mi aiuti? Sei sicuro che possa farcela? Ellie. Sì, ora spingi. Spingi! Sto spingendo! Spingi di più! Che le dici? Andiamo. Oh, no. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Adesso io vado giù e cerco di liberare il passaggio. E io che faccio? Tu rimani qui. È un piano stupido, avremmo molte più possibilità se ti dessi una mano. Lo farai. A quanto pare sai maneggiare un'arma. Pensi di farcela con questo? Beh, diciamo che ho già usato un fucile. Ma contro dei ratti. Ratti? Era d'aria. Vabbè, il concetto di base è lo stesso. Sollevalo. Ci siamo. Appoggia a tivene al fucile perché scalcerà molto più di un giocattolo per bambini. Capito? Ok. Bene. Tira indietro la sicura. Prendila qui. Tira forte. Così. E appena spari, metti subito dentro un altro proiettile. Ascoltami. Se ho problemi là sotto, tu non devi sprecare un colpo. Ok? Ho capito. Ok. E per essere chiari riguardo a prima, non c'era alternativa. Non c'è di che. Lo stronzo doveva saperlo. Se vuoi rubare, è meglio che ti assicuri di poterla fare franca, no? Io avrei... Sono tutti morti! Tutti morti, cazzo! Di cosa diavolo sto parlando? Calmati. Merda! Merda, Merda! 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 No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no Sì, continuo, sì. Sì, continuo, sì. Cazzo, do un'occhiata qui intorno. Tu, scendi e cerca. Cazzo, do un'occhiata di troia! Cazzo, do un'occhiata di troia! Cazzo! 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 Cazzo!